È il secondo rally più longevo dell'intera nazione e proprio quest'anno celebra la sua 67esima edizione. Parliamo del rally Coppa Valtellina. Esattamente 70 anni fa era il 1954, la prima edizione decisamente più spartana e pionieristica in un mondo dei motori che tanto è cambiato con lo scorrere degli anni. Alla presentazione dell'evento, presieduta dal vertice di Aci Sondrio, Andrea Mariani, assieme al direttore Roberto Conforti, anche la prima cittadina di Chiesa Valmalenco, Renata Petrella e Francesco Nana, vicesindaco di Lanzada. Ed è proprio nel centro della Valmalenco che farà base la Kermess motoristica, che conferma le classiche prove di Castello dell'Acqua, Carona e Berbenno. Tante le presenze all'evento, ma in sponsor del quale il gruppo Iperauto, un appuntamento che anno dopo anno cresce ed aumenta di interesse. Sono 96 gli equipaggi iscritti, provenienti anche dall'estero, tra i nomi di spicco quello del cileno Alberto L. Rancarola, su Volkswagen Polo Rally 2, e poi il tre volte campione europeo Luca Rossetti, pordenonese di provenienza ma tiranese d'adozione, e ancora Simone Miele che su Skoda RS è tra i protagonisti del trofeo italiano Rally. In aumento il numero delle quote rosa, ben 36 su 96 equipaggi, contano infatti i navigatori donna. Si parte domani sera, venerdì, a Chiesa in Valmalenco, ma per girare la chiave bisognerà attendere sabato mattina con lo shakedown a Torre di Santa Maria, dalle 9 alle 13. Poi le tappe Castello, della Romana e Carona, a seguire tutti a Sondrio per l'orario dell'aperitivo, poi il ritorno a Lanzada per la prova Valmalenco Show Iperauto. Domenica mattina poi lo start per le prove di Triangia e Berbenno e l'ultimo round di prove con Valmalenco Show Iperauto, Triangia e Berbenno. Alle 16.11 in Via Roma sarà attesa la prima vettura per poi decretare il vincitore della 67esima edizione del Rally Coppa Valtellina. Un'edizione in memoria di Giovanni Trincacolo nel leggendario presidente di Acisondrio e Anima del Rally e durante la quale verranno assegnati tre trofei intitolati a Eros Rinaldi, a Marina Bombardieri e a Jessica Andreoli.